Amici sportivi del Mala appassionati di MotoGP, benvenuti alle Malapagelle del Gran Premio d'Austria tramite i voti Come al solito andremo ad analizzare la gara dei protagonisti della gara di ieri Ma non solo quello all'interno della Top 10 ma anche dei piloti che ahimè purtroppo ieri sono caduti Anche nella carambola molto pericolosa fra Zarco e Morbidelli La riandremo ad analizzare ancora una volta, questa volta però andando a dare i voti sia a Zarco e anche a Morbidelli Però iniziamo subito dal vincitore della gara di ieri ovvero da Andrea Dovizioso sulla sua Desmo Ducati 10 Cioè ragazzi un voto diverso dal 10 non può non esistere nel senso che insomma Desmo Dovi corre la sua solita gara in Austria Perfetta, gestisce le gomme alla perfezione, sa quando deve attaccare e difendere Sa soffrire, corre d'intelligenza, più chiaro di così non posso non fare E signori c'è la Ducati da quando la MotoGP è in Austria è rimasta imbattuta con tre vittorie del Dovi Una di Lorenzo e una di Iannone Cioè capite bene che insomma la Ducati questo circuito lo digerisce alla perfezione È la sua pista Va bene, ok La pista di Spielberg è fatta per chi ha un bellissimo motore potente Però comunque ci vuole anche un poco di aerodinamica soprattutto nella terza parte della pista E bravo però dove comunque a sfruttare il momento e anche gli errori di Quartararo che finisce ottavo E quindi rosichiare tanti punti sulla classifica generale dei piloti L'unica preoccupazione che ho per Dovizioso è quella che insomma l'anno prossimo non colora più con la Ducati E di posti liberi in questo momento non ce ne sono poi così tanti se no nessuno Però questo è un altro discorso, ne parleremo a campionato finito e a motori spetti Per il momento è solo un grande dubbio Joan Mir della Suzuki, voto 9 Corsa fantastica quella di Mir Perché sì, ok, la Suzuki aveva un gap abbastanza importante di motore Con Ducati e KTM ma comunque è riuscito a fare un secondo posto fantastico Anche perché ha corso molto intelligentemente E grazie alla sua intelligenza coglie appunto questo secondo posto A discapito di Miller con il suo errore alla penultima curva dell'ultimo giro Un buon Mir, grande grande gara dello spagnolo al team Suzuki Jack Miller sulla Ducati Pramac, 8 e mezzo e non 9 Come potevo dare prima della fine della gara Perché quell'errore nel finale pesa tanto Però comunque rimane un weekend molto positivo per lui Dopo il brutto weekend della Repubblica Ceca Un buonissimo Jack Miller Brad Binder sulla KTM Un altro 8 Bravissimo Brad Binder ragazzi Non me l'aspettavo un Binder così competitivo Sia che ha fatto il gara 1 della vita Per il momento Ma anche se confermato in questa gara austriaca Dove è finito quarto Partito dalla quattordicesima casella Che insomma potremmo anche dire delusione Un po' per Binder Dopo le qualifiche del salto Ma poi piano piano sia in gara 1 che in gara 2 Ha rimontato posizioni Fino appunto a cogliere questa quarta piazza Assolutamente fantastica E conferma ancora una volta Che KTM è ancora lì per giocarsi la vittoria Dopo anni di lavoro intesi Bravo Binder e ancora una volta brava la KTM Valentino Rossi termina la gara in quinta posizione Primo delle Yamaha Voto 8 e mezzo Non solo per la gara di ieri Straordinaria come al suo solito Il primo delle Yamaha a finire la corsa Ma anche freddo Lucido Intelligente Coraggioso E concentrato Nel continuare la corsa con la seconda gara Finire quinto Dopo quello che insomma poteva subire Dal Un probabile contatto Tra lui e la moto di Morbidelli Che gli passa davanti di 50 cm 280 km orale Equivalente di un proiettile di 100 kg Quindi lì veramente abbiamo temuto tutto il peggio Per fortuna poi alla fine Non è successo niente Non è venuto a contatto la moto di Morbidelli Con Rossi e con Vignales E anche quella di Zarco Però insomma Buonissima gara di Rossi Ma anche sotto l'aspetto mentale È stata una gara veramente pazzesca Una forse delle migliori in assoluto della carriera Per Valentino Rossi E la sua Yamaha M1 Nakagami con la onda del team di Lucio Cicchinello Voto 6 politico Stiamo qua sempre a parlare della stessa cosa Per Nakagami Primo delle onde ad arrivare Ma niente di che Nel senso che la onda senza Marquez Paesa ha tanti problemi E non riesce a tenere il confronto con Suzuki Con Ducati Con KTM Con Yamaha Cioè insomma La onda senza Marquez È veramente un qualcosa di molto scadente Petrucci sull'altra Ducati ufficiale 5 Se Dovizioso Che non ha rinnovato il contratto Con Ducati Però comunque Porta a casa la vittoria Con la sua stessa moto Petrucci che non ha rinnovato Da Mo Con la Ducati E che secondo me Sta pensando veramente Alla prossima stagione Con la KTM Comunque deve enorare di più La Ducati Perché insomma Ottenere questi risultati qua È veramente Una grossa delusione Per Petrucci E per la Ducati La sensazione è che Con Dovizioso Forse hanno fatto un grave errore Forse con Petrucci Non è che hanno fatto un grave errore Anzi Forse è stato meglio così Comunque Petrucci ieri male 5 Quarta Raro 5 Come vi dicevo Durante il commento Sulla gara del Dovi L'errore iniziale È stato molto negativo Per Quarta Raro Perché Con quell'errore lì Nelle fasi iniziali Di gara 1 Ahimè Retrocesso In ultima posizione Per fortuna Per lui Che comunque C'è stato il restart Della seconda gara Dove lì Veramente Ha potuto rimontare Un po' di posizioni Altrimenti Era veramente Nottefonda Almeno qua Ha salvato Parzialmente La barca Però insomma Gara da 5 Assoluto L'Ecuona Con l'altra KTM Che termina In una posizione Approfittando Dei ritiri Delle cadute Delle prestazioni Non eccesse Di altri piloti Arriva in top 10 E quindi Se merita la sufficienza Voto 6 e mezzo Per lui Passiamo adesso All'ultimo pilota Arrivato in top 10 Ovvero Maverick Vignales Ma ufficiale La gara sarebbe Da 4 e mezzo Perché comunque Era in pole Con il restart Della seconda gara Accusa problemi E non riesce A risolverli subito E poi Termina Indecita posizione finale Quindi la gara Sarebbe da 4 e mezzo Ma alla fine Gli do 5 e mezzo Come vedete In sovraimpressione Qua sotto Perché Comunque Anche vale Per lui Lo stesso discorso Che ho fatto Per Rossi Perché se lui Se ne è vista Veramente brutta Col contatto Di Zarco e Morbidele Con le moto Che insomma Lo schivano In maniera clamorosa Che neanche lui sa Come è potuto Accadere questo E insomma Molta fortuna Per Vignales Però Se dobbiamo parlare Della gara Male 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 Anche in questa occasione Per Top Gun Adesso però Andiamo a dare i voti Ai ritirati Perché Quelli fuori dal Top 10 Non li sto neanche a parlare Visto che comunque La Honda Non l'ha fatto benissimo Con Marquez E Bradel La pelle Non mi ha entusiasmato tantissimo Il resto Non lo commento neanche Partiamo quindi Da Alex Rins Voto 7 Poteva essere Un gran voto Peccato Che insomma Quella caduta Frutto di un sorpasso Troppo precipitoso In un punto Dove forse La Suzuki Dava qualcosa in più A KTM E Ducati Solo che purtroppo Andando fuori Traiettoria Ha perso Completamente Grip Sull'anteriore E cade Sulla ghiaia Quindi insomma Per Rins Sfuma così Forse la chance Di battagliare Per il mondiale Con questo Secondo 0 Peccato per lui All'anno prossimo Per la lotta Il mondiale Paul Espargaro E Miguel Oliveira Condividono a testa Il 5 Perché? Perché se nella caduta Non mi va proprio Di colpare al massimo Paul Espargaro Perché comunque Poi anche lui è vera Ha un po' Anche lui Delle colver Che comunque Entra In curva Al solito modo Nei giri Precedenti Poteva dare un secondo Un occhio A vedere dove era Paul Espargaro Però dall'altra parte Paul Espargaro Insomma È veramente Deludente Nella gara Di ieri Fa Una marea Di errori Incredibili Non da lui Non va neanche Sul punto di corda In ogni curva Gara veramente Da buttare via Per Paul Espargaro Da risettare tutto E magari Forse Il prossimo weekend Che si correrà Sempre in Austria Forse potrebbe dimostrare Di essere Un vero pilota Di KTM Prima di fare il salto E andare in onda Però comunque L'incidente È 50 e 50 Per Espargaro E Miguel Oliveira Che entrambi Si mettono il 5 Adesso però Andiamo a parlare Tramite i voti Sempre Dell'incidente Fra Morbidelli E Zarco Io sinceramente A Morbidelli Non gli do neanche Il voto Perché la sua gara È durata troppo poco Stava anche lì Lottando per la Sesta Settima posizione Con Rossi Poi vabbè È venuto sto incidente Lui è completamente Incolpevole Perché purtroppo Si vede frenare davanti La moto di Zarco E lui non può neanche Troppo evitare Se non addirittura Andandogli contro Quindi insomma Per fortuna Sta bene Può subito rientrare In pista Nel prossimo weekend Cioè Io direi senza voto Per Per Morbidelli Poi ditevi anche La vostra Qua sotto Nei commenti Che voto date A Morbidelli Perché Cioè Insomma Io faccio fatica A dare un voto A Morbidelli Non faccio per niente Fatica A dare un voto A Zarco Perché Perché si merita Per me Un bel 3 Come ho detto Nel video di ieri Ha fatto Una tradittoria Completamente Sbagliata E scellerata A 300 km Andando troppo Stretto Verso quella Curva E purtroppo Alla fine Ha causato Un grosso Incidente Strano Che la direzione La gara Non l'ha Neanche Sanzionato Non so Disqualificarlo Per la prossima Gara Perché insomma Cioè Il che impresso Si correrà Sullo stesso Circuito E ragazzi Se succede Un'altra volta Non so Se la dinamica Sarà come Quella avvenuta Ieri Diciamo che Zarco E' stato fortunatissimo Perché è andato Tutto bene Perché altrimenti Insomma Aveva sulla coscienza Altri guai Molto peggiori Rispetto a quelli Che poi sono accatti Ieri Cioè Quasi Un nulla Di fatto Però Comunque Zarco Si deve dare Una calmata Non è nuovo A queste cose Voto 3 Non c'è altro Da dire Quindi niente Questi sono i miei voti Alla gara Di ieri Della MotoGP In Astra Sul circuito Di Spielberg Settimana prossima Si replicherà Di nuovo La gara Sul circuito Del Red Bull Ring Per il momento E' tutto Della MotoGP Ci vediamo Nel prossimo video Sempre qui In compagnia Del Mala